Non fate sgambietti o cose del genere, mi raccomando. In fondo, in fondo, in fondo, sono scoperti. Attenzione, la gallina è pericolosissima, magari se la mettono a rosto. Ma va protetta anche lei, tutti vanno protetti. Attenzione, attenzione, sono le macchine. Grazie al Parma Calcio, veramente. Grazie per quello che state facendo, che ci aiutate a raccogliere fondi. Ciao Francesca! Ciao Francesca! Ciao! È sicuro che ti ha posto. Bambino, vanno a cacciatore. Marco! C'è qualcuno che racconta? Finzione, finzione, finzione. Siano qua si sgambetti con i bastoni, e mi raccomando. È molto pericoloso. Lo infatti un po' per proteggerci tutto. C'è. Saliamo dentro tutti. Andiamo dentro. E' messo. Andiamo. Funzione, funzione. 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 Prego, andiamo là sotto. Funzione. ciao 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 io ci ho provato mi vestivo da un'acqua mi devo atteggiare 1 1 1 1 1 1 1 1